Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del Deuter Aschender 7 litri, uno zero da trail abbastanza economico con delle tasche studiate veramente molto molto bene di cui adesso vediamo pregi di fette all'interno della recensione completa Iniziamo come al solito col peso di questo Deuter Aschender Il modello da 7 litri pesa 215 grammi Esiste anche il modello da 13 litri, un pochino più grande, naturalmente peserà di più Vi assicuro che comunque per il prezzo a cui viene venduto il peso ci sta Anche se da 7 litri è abbastanza capiente, quindi il peso è consono per il prodotto che andiamo ad analizzare Io inizierei ad analizzare questo zainetto partendo dalla parte anteriore dove troviamo le tasche che più utilizziamo quando facciamo trail running Andiamo sulle cose un pochino più classiche Abbiamo naturalmente due porta flasche da 500 ml l'una Due porta flasche studiati molto molto bene perché nella parte superiore hanno un gancetto, un cordino a poter andare a stringere ed evitare che la flasche possa ballare Dove ora ragazzi con un lacceltino Deuter ha risolto uno dei più grossi problemi ovvero le flasche che ballano Quindi brava Deuter Abbiamo poi tutta una possibilità di regolazione iniziando dalla parte superiore Che possiamo avvicinarci allo zaino se dovesse ballare o essere un pochino lontano Abbiamo il fischietto nella parte destra Continuando poi sullo spallaccio di destra abbiamo la tasca che io ritengo essere la più geniale di tutto lo zaino Ovvero una tasca che si va ad aprire e dove possiamo infilare all'interno i nostri bastoncini Tenete conto che i bastoncini però ballano un pochino Io ho notato che se li mettiamo con la parte del manico all'interno e la puntale verso il nostro viso Quindi cosa che non andrebbe fatta i bastoncini restano un pochino più fermi Se invece li mettiamo con il puntale all'interno della tasca come in teoria andrebbe fatto In modo tale da non avere la punta verso il nostro viso tendono a ballare di più Personalmente io vi consiglio di tenerli con la punta all'ingiù ed evitare nel caso di farvi male Secondo me ci sarebbe bastato solamente un piccolo cordino che poteva stringere la tasca nella parte inferiore della tasca Stringendo anche lì davvero a quel punto il bastoncino restava completamente serrato e non sarebbe ballato per nulla La tasca inoltre può essere utilizzata anche nel momento in cui non abbiamo i bastoncini dentro Diventa una taschina piccolina dove possiamo inserire dentro delle barrette, quello che vogliamo Però non è chiusa Anzi ha tutta una parte rigida che tiene sempre aperta la tasca E tende a dare un pochino fastidio questa parte rigida nel momento in cui andiamo a correre e ci strusciamo addosso con il gomito Quindi diciamo che soprattutto per quanto riguarda questa parte rigida io l'avrei studiata in un modo un pochino diverso Funziona molto bene quando ci sono dentro i bastoncini e ne si vede tutta la qualità Quando è vuota lascia un pochino a desiderare Continuiamo, arriviamo a parlare dell'altra tasca, quella nella parte sinistra, come dicevo flasca E poi sotto abbiamo una tasca chiusa da zip dove possiamo andare a infilare il nostro telefono Come vedete manca la parte dove infilare le barrette Nel momento in cui noi abbiamo di qual telefono e di quali bastoncini dove le mettiamo le barrette Qui Deuter ha fatto, secondo me, una gran genialata Ovvero le barrette le possiamo andare a mettere addietro Nella parte posteriore dello zaino abbiamo delle tasche pretensionate Dove ci stanno dentro tre barrette per tasca O tre gel, poi quello che volete E sono molto utili, molto utili perché sul davanti se sono riuscite a ricavare questa tasca porta bastoncini Qua dietro le barrette riusciamo a prenderle senza nessun problema in autonomia Quindi io mi sono trovato veramente molto molto bene Anche correndo, anche sballonzolando quanto volete lo zaino Non cadono fuori, vanno messe in verticale naturalmente Perché se le mettete in orizzontale tenderanno a uscire, quello sì Però davvero, con questo tipo di tasca mi sono trovato super bene Continuo parlandovi dello schienale Lo schienale è molto molto traspirante Sia lo schienale che tutta la parte anche davanti degli spallacci Davvero, non ci suderete Non dico gli zaini fatti veramente molto bene Addirittura se ci guardo attraverso vedo benissimo dall'altra parte Quindi è super traspirante Sempre sullo schienale abbiamo all'interno la possibilità di andare a togliere Tutta una parte un pochino rigida plastica Che va ad aumentarne la traspirabilità Ma che volendo possiamo andare a togliere per diminuirne ancora il peso Questa poi è la nostra scelta se utilizzarlo o no Visto che parliamo all'interno, oltre a questa parte sullo schienale Troviamo degli scomparti ben suddivisi Quindi possiamo mettere da una parte la nostra vescica con l'acqua Per far uscire anche il tubicino sul davanti Massimo due litri Abbiamo tutta una tasca posteriore completamente aperta Dove mettere tutto il nostro materiale senza nessun problema E poi abbiamo una piccola zip chiusa Dove possiamo andare a mettere, ad esempio, le chiavi della macchina Per essere sicuro di non perderle Per quanto riguarda l'apertura Questa parte da in basso, nel lato destro Arriva a mezza altezza nel lato sinistro In modo tale che anche se avremo lo zaino pieno E vogliamo recuperare qualcosa Non andremo a perdere tutto il carico in giro Quindi anche qua studiato bene La cerniera fatta molto bene Mi piacciono poi anche i singoli laccioli che ci sono Su ogni singola cerniera Che ci dà modo di poter aprire e chiudere lo zaino Molto velocemente Quindi anche qua studiato bene Se poi non dovessimo andare in giro con lo zaino completamente pieno Abbiamo la possibilità, nella parte inferiore, di andare a tirare questo cordino E andare a diminuire la grandezza dello zaino Quindi anche lì lo lasciamo completamente aperto Magari con lo zaino potremmo usarlo anche per fare delle gare molto lunghe Non ci serve tutta la grandezza dello zaino Tiriamo al cordino e magari ci facciamo anche delle gare abbastanza corte Per quanto riguarda tutta la parte di regolazione Come vi dicevo, sul davanti abbiamo la regolazione superiore Ma la regolazione principale sta nel mezzo Ovvero tutta questa parte qua, che va a finire sul fianco Abbiamo la regolazione per poter andare a tirare E questa andrà a regolarsi perfettamente in base alla nostra grandezza del busto Quindi davvero, questo zaino essendo super regolabile Vi assicuro che non balla mai Anche a dei ritmi alti, anche su terreni particolarmente sconnessi Non è uno zaino che tende a ballare Sta veramente molto molto fermo Naturalmente poi, oltre a tutta la regolazione laterale Abbiamo le solite cinghie anteriori Queste lavorano molto bene Sono rigide Io le avrei preferite un pochino più elastiche Questo dico la verità, le avrei preferite Si possono muovere in su e in giù In base ai buchi che ci sono fatti già da Deuter sullo zaino Però in generale comunque lavorano bene Non danno fastidio Tengono fermo lo zaino Quindi giusto un pochino più elastiche Se avrebbero state veramente top Infine, materiali Questo zaino lo sto utilizzando da diverse settimane Ho messo a posto all'interno anche i bastoncini Un po' di materiale un po' contundente Per vedere se andava a strappare Non si è strappato nulla Quindi secondo me è uno zaino anche duratoro Cioè è uno zaino che davvero potrebbe andare avanti Anche diversi anni a utilizzarlo senza nessun problema Tiriamo però le conclusioni per questo Deuter Aschender 7 litri Iniziando dal prezzo Viene venduto da un prezzo ufficiale di casa Deuter di 100 euro Vi dico già che online lo trovate sui 75-80 euro Secondo me è un ottimo prezzo Davvero Abbiamo delle feature molto interessanti Soprattutto dal punto di vista delle tasche Materiali fatti bene Molto regolabile Uno zaino che non balla Uno zaino che poi possiamo utilizzare davvero per gare da 20 km Andando a ridurne la capienza Tirando i cordili A gare anche da 100 km completamente pieno Quindi grande versatilità Sia per allenamento Che per gara Possiamo anche lì andare a decidere Se vogliamo un pochino più pesante o un pochino più leggero Trasperabilità ottima Quindi Io sarò sincero Non mi aspettavo tutte queste prestazioni Do questo Aschender E sono rimasto veramente super stupito Secondo me Se volete puntare a uno zaino Senza spendere eccessive cifre Ma a uno zaino che può andare bene un po' per tutto Questo Aschender Io ve lo consiglio fortemente Detto ciò ragazzi Una speranza di essere stato eseramente esaustivo Anche per questa recensione Vi ringrazio per la guardata E non ci vediamo alla prossima Ciao